La Regione Toscana istituisce la figura dello psicologo di base, allargando così l'offerta di servizi sanitari, nell'ottica di una presa in carico globale della persona e della sua salute, compresi gli aspetti psicologici. Al termine di un lungo iter arriva il sì da parte del Consiglio regionale al nuovo servizio che verrà istituito all'interno di ciascuna azienda sanitaria locale. Questa legge sancisce un principio, un principio forte, che il benessere psicologico è un diritto e come tale deve essere alla portata di tutti. È un servizio che evidentemente nasce anche da quanto vissuto dalla nostra terra, dal nostro mondo negli ultimi anni, le grandi difficoltà e le grandi incertezze legate a fatti con ricadute globali, ma che nasce anche da un'esigenza di promozione della cultura della salute che va al di là di questi fatti contingenti. Il benessere fisico e il benessere psicologico concorrono, e questo l'ha detto a più riprese anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, al benessere generale delle persone e delle comunità. L'atto prevede adesso che entro sei mesi la Giunta regionale definisca le specifiche competenze e titoli dello psicologo di base. Il fa bisogno ottimale di erogazione delle prestazioni da parte degli psicologi per ciascuna zona distretto, le eventuali modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei pazienti. Intanto la legge ha previsto stanziamenti di 350.000 euro ciascuno per gli anni 2023 e 2024. Questa legge dice che lo psicologo di base deve essere dentro la casa di comunità, deve essere in rapporto stretto e sinergico con due soggetti, che sono da una parte il servizio di salute mentale dell'azienda, tant'è che si dice che il coordinamento scientifico e l'indirizzo e il controllo lo fanno il Dipartimento di Psicologia dell'Asa di Salute Mentale. Dall'altra parte con il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti territoriali, perché nella legge abbiamo scelto che non ci può essere un accesso diretto del cittadino allo psicologo di base, ma l'accesso è immediato dal medico di medicina generale, lo pediatra di libera scelta o lo specialista del territorio che possono indirizzare. Questo perché ci fosse uno stretto legame tra tutti i soggetti erogatori dei servizi nell'ambito della casa di comunità. La legge passa con il voto quasi unanime del Consiglio. Un sì convinto, quello del gruppo di Fratelli d'Italia, la proposta di legge che istituisce lo psicologo di base. Tra l'altro un voto che viene anche da una mozione unanime di Fratelli l'Italia votata lo scorso luglio del 2021, che poneva la questione all'ordine del giorno dei servizi che non soltanto la crisi pandemica ha acuito più che rendere necessari, chiaramente siamo cautamente ottimisti, nel senso che aspettiamo adesso di lavorare in commissione con il collega Diego Petrucci alla redazione del regolamento attuativo di questa proposta di legge che però chiaramente è un primo passo importantissimo. Un successo che viene da lontano, l'iniziativa parte da quando avendo approvato il piano sanitario regionale nel 2019 abbiamo voluto fare un focus particolare sulla salute mentale, è un servizio sociale e sanitario ovviamente inserito nell'ambito dei distretti sanitari che dà una prima forma di risposta a tante esigenze che nascono nei territori e ci deve essere una collaborazione con il medico di famiglia, ovviamente con la pediatria, con gli infermieri di famiglia che molte volte conoscono le esigenze dei nostri cittadini, una collaborazione che consentirà a molti psicologi di essere convenzionati all'interno dei distretti sanitari e nel contempo serve rilanciare però massima attenzione alla questione che riguarda la salute mentale e per fare questo è necessario che si investa sempre di più su psichiatri, su neurologi, su servizi di salute mentale che possono poi dare risposte curative qualora le patologie che sono oggettivamente in alcuni casi invalidanti ed entrano nell'ambito della sfera della sanità e della salute mentale. Sicuramente è una legge importante di cui andiamo fieri, non è la Toscana la prima ad aver istituito questa figura ma comunque direi che abbiamo fatto un passo importante. Le cifre stanziate per questo primo periodo non sono molto alte perché se voi considerate che è stato, diciamo, dato 350.000 euro a fronte di un Abruzzo che ne ha messi 400.000 è ovvio che non ci sarà grandi disponibilità però credo che sia stato fatto un passo importante e che questi medici, psicologi in convenzione piano piano potranno essere messi, diciamo, a tempo indeterminato con il lavoro fisso. C'è una mancanza però sotto lì nel Movimento 5 Stelle. Purtroppo c'è anche un passaggio per quanto riguarda le donne e la necessità di un maggior supporto alle donne, al genere femminile, che non condividiamo non tanto nei contenuti che sono stati espressi dalla Commissione Pari Opportunità. Tutti sappiamo che il genere femminile, le donne, le madri soprattutto, sono state molto più pressate durante la pandemia per il carico mentale enorme che è gravato su di loro per quanto riguarda il caregiving degli anziani, dei malati, dei bambini che rimanevano a casa per fare la didattica a distanza e spesso sono state loro che hanno dovuto rinunciare al lavoro. Ma tutto questo non ha bisogno di uno psicologo per aiutare le donne a sopportare un carico di lavoro che gli è imposto da una società dove ancora l'uguaglianza, la parità di genere tra uomo e donna viene sbandierata ma di fatto non attuata. Le donne non hanno bisogno di maggiore aiuto psicologico, hanno bisogno di un alleggerimento del carico, hanno bisogno di una maggior condivisione, hanno bisogno di superare il gap salariale che porta le famiglie spesso a chiedere alle donne di rinunciare al proprio lavoro e attività professionale perché il loro stipendio è inferiore, quindi non aiuterebbe a sostenere le finanze familiari. Ecco, c'è bisogno di tutto questo, passaggi che sono stati condivisi nel corso degli anni in questa aula. Quindi la formulazione, così come è stata prevista, non ci convince, faremo una modifica per restituire alla regione toscana un testo che sia più adeguato anche alle sensibilità che in questo momento dobbiamo rivendicare con forza. Unica consigliera ad astenersi quella del gruppo misto. Perché la valutazione è stata molto semplice, noi è stato valutato dal Consiglio regionale di approvare un provvedimento che sostanzialmente nasce un po' anche sulla spinta emotiva di quelli che sono un po' di dati allarmanti che hanno riguardato il post pandemia e quindi di questa fase difficile, soprattutto tra i giovani, di recupero anche di una dimensione sociale e quant'altro. Non credo che legiferare su una spinta emotiva poi porti a valutare nel pieno quelle che sono invece un complesso, secondo me, di criticità che riguardano l'insieme del Servizio Sanitario Toscano. Noi abbiamo una costante necessità di risorse, abbiamo una costante necessità di interventi, quindi faccio riferimento banalmente anche solo al fatto delle automediche che oggi non hanno il medico a bordo, alla questione dell'emergenza, alla questione dei pronto soccorsi. Ecco, io credo che prima di andare nel particolare, magari su un'onda emotiva, comprensibile anche, si debba invece guardare con molta attenzione non solo alla questione delle risorse e quindi della programmazione, ma anche alle tante questioni irrisolte. Incontri con gli operatori e i professionisti della sanità toscana, la Commissione Sanità del Consiglio Regionale dà il via ad una sorta di tour tra le strutture ospedaliere e sanitarie della Toscana. Intanto immaginiamo di avviare un'attività che voglia diventare un'attività istituzionale della Commissione, cioè non di fare una visita sporadica al sistema sanitario, ma che dopo tutto il lavoro degli Stati Generali, poi non l'avevamo potuto far partire per il Covid, insomma per tanti motivi, ma riteniamo che l'attività di incontro degli operatori e dei lavoratori nei luoghi stessi di lavoro dove si articola la sanità regionale sia un compito anche del Consiglio Regionale. La prima tappa si è svolta a Grosseto, poi visde nelle altre aree vaste, quindi ad anno nuovo in tante altre strutture della Regione. Un elemento di vicinanza, ma anche di avvicinamento poi delle scelte che dobbiamo fare a quella che sono la realtà vera accanto ai dati che noi sempre monitoriamo, stiamo facendo le audizioni di tutti i direttori delle aziende sanitarie della nostra Regione, lì azienda per azienda vediamo i dati, le criticità, le eccellenze, però poi vogliamo anche andare sul campo. Quindi ora abbiamo ipotizzato le prime tre visite istituzionali della Commissione Sanità nelle tre aree vaste, una a Grosseto, una a Pisa e una a Firenze e poi ovviamente con il nuovo anno ci saranno ulteriori date e vorremmo andare in tutti i presidi ospedalieri e anche in alcuni presidi che ovviamente riguardano l'organizzazione della sanità territoriale. Questo è un premio alle sue qualità scientifiche, alle sue qualità mediche, alla sua capacità di sapere essere vicino al paziente facendo ricerca di altissimo profilo. Uno di quei professionisti che quando vanno in pensione mancano e la sua mancanza si sente al sistema sanitario. Sono orgoglioso di farlo qui oggi in Consiglio regionale anche perché questo riconoscimento è anche un riconoscimento che noi vogliamo dare oltre che a lui ai tanti professionisti della sanità in questo modo che sono stati impegnati in prima linea durante i tremendi mesi del Covid. Il gonfalone d'argento al professor Francesco Menichetti, la più alta onoreficenza dell'Assemblea Toscana conferita all'infettivologo pisano per il ruolo significativo che ha avuto durante la pandemia nell'acqua di uvare le istituzioni con pareri e indicazioni di particolare rilievo scientifico. Laureato in medicina e chirurgia, specializzato in medicina interna e malattie infettive. Infettivologo esperto Francesco Menichetti si è dedicato allo studio delle infezioni nell'ospite compromesso e all'attrattamento delle infezioni da germi multiresistenti. In relazione al Covid ha condotto studi sul plasma e anticorpi monoclonali. Studia adesso il Long Covid e si dedica all'assistenza dei pazienti colpiti da questa patologia complessa e ancora poco conosciuta. Direi innanzitutto un profondo orgoglio perché questo è un premio che va a riconoscere un impegno ultraventennale che io ho speso presso l'ospedale di Pisa a favore della sanità regionale toscana e assieme all'orgoglio e alla soddisfazione anche una riconoscenza dove rosa sentita autentica nei confronti dell'istituzione e consiglio regionale del suo presidente il presidente Mazzeo che ha voluto pensare a me. Penso anche per il complesso di una lunga attività ma anche questi ultimi anni della pandemia di Covid ci hanno visto spesso insieme hanno visto me insieme con le istituzioni interagire per cercare di ottenere risultati che poi si sono dimostrati tangibili e positivi. Quindi grande soddisfazione. La pandemia adesso è superata? La situazione è più favorevole per due buoni motivi. Uno che abbiamo un paese largamente vaccinato. Siamo tra i più vaccinati d'Europa, del mondo e questa è una nota di merito. Quindi abbiamo una popolazione largamente protetta. Il secondo motivo è invece legato a queste continue mutazioni virali che fortunatamente non hanno virato al peggio. Queste sottovarianti della Omicron sono ancora tutto sommato meno patogene di quello che è stato il virus di Wuhan originale, il virus Delta che provocava quelle gravi polmoniti. A tale proposito permettetemi di dire che mi pare forse azzardato liquidare quell'atteggiamento di prudenza e di attenzione in particolare all'interno degli ospedali e nei confronti dei sanitari. Ecco io avrei continuato a mantenere l'impegno vaccinale. Noi abbiamo come dire anche l'onere della testimonianza. i pazienti hanno diritto di essere assistiti da medici che credono nei vaccini, che fanno i vaccini e che li mettono al riparo da rischio. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.